A seguito di quanto accaduto nella scuola romana di Via Trionfale, molti sindacalisti e molti politici nostrani hanno riscoperto l'acqua calda, inondando i social di commenti e comunicati che, ridotti all'osso, dicono che la scuola italiana è scuola di classe. C'è chi dà la colpa alla legge 107 di Matteo Renzi, chi si spinge ancora più indietro e cita le norme sulla autonomia scolastica di Luigi Berlinguer, ma per la verità basterebbe riprendere in mano la vecchia lettera ad una professoressa scritta dai ragazzi di Barbiana nel 1967 per sapere che il classismo non è affatto un dato recente, ma sta quasi nel DNA del nostro sistema scolastico. In questa tavola, ripresa proprio dalla lettera ad una professoressa, per esempio, si evidenzia che quasi l'80% degli alunni che negli anni 60 si perdevano fra la quinta elementare e la prima media erano figli di contadini, il 25% di operai. Certamente si tratta di dati non più attuali, ma forse questi invece che mettono a confronto la provenienza sociale degli studenti che conseguono il diploma non sono molto lontani da quelli più recenti. Come si vede in quest'altra tavola, sempre ripresa da lettera ad una professoressa, quanto più è alto il livello sociale della famiglia di appartenenza, tanto maggiore è il numero di studenti che si diplomano. D'altronde, basta scorrere una delle ultime edizioni dello studio Alma Diploma per scoprire che il 14% dei ragazzi con almeno un genitore laureato conclude la scuola secondaria di primo grado con il massimo della valutazione, ma questa percentuale scende all'8% fra i figli di genitori diplomati e al 4% fra i figli di genitori con grado di istruzione inferiore. E in una delle tante indagini svolte in questi anni, Scuola.net evidenzia che gli indirizzi liceali si caratterizzano per una forte presenza di studenti di estrazione elevata, il 47% al classico, il 35% allo scientifico e una scarsa presenza di figli delle classi meno avvantaggiate, 8% al classico, 14% allo scientifico. Appare allora davvero un po' strano che ci si scateni proprio contro la scuola di via trionfale che a conti fatti si è limitata a segnalare nel proprio Rav che uno dei plessi si trova in un quartiere disagiato e un altro è collocato invece in una zona abitata da professionisti funzionari impiegati. Forse più che prendersela con la scuola romana colpevole semmai di aver messo un po' troppo in evidenza il dato peraltro reale sulla composizione sociale dei propri plessi sarebbe bene riflettere sui motivi per cui a Roma e in tante altre città italiane convivano a poca distanza realtà sociali così diverse. Perché se proprio dobbiamo dirla tutta non si può demandare alla scuola il compito di eliminare le differenze sociali. Non dimentichiamo che rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana non tocca solo al sistema scolastico ma a tutte le istituzioni della Repubblica come peraltro recita l'articolo 3 della Carta Costituzionale. Su questo tema torneremo ancora quindi seguiteci su questo canale, seguiteci anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it leggeteci soprattutto scriveteci mandate i vostri commenti e le vostre osservazioni ne daremo conto come sempre